Pier Silvio Berlusconi è intervenuto. In collegamento da Cologno Monzese. Durante la serata evento organizzata per ricordare Maurizio Costanzo ad un anno dalla sua scomparsa. Maria De Filippi e Fabio Fazio hanno lanciato un video che ha documentato il rapporto tra il compianto giornalista e conduttore e Silvio Berlusconi. Dopo questo filmato, la parola che mi viene spontanea è, tenerezza. Ha commentato Pier Silvio Berlusconi in questo caso, la tenerezza fa rima con grandezza. La loro grandezza aveva un tratto comune che era la loro umanità. Poche volte ho trovato, nella vita, persone con l'attenzione verso gli altri e il rispetto che Maurizio e mio padre avevano sempre e comunque. È un grande insegnamento che io porto nel mio cuore e che tutti noi dobbiamo portare nella nostra vita. Noi guardavano il Costanzo Show ha raccontato l'amministratore delegato di Mediaset guardavamo tanta televisione che per mio padre è sempre rimasta una passione. Il rapporto tra di loro era meraviglioso. Era un rapporto di bene. Si volevano bene sinceramente. In maniera genuina. Avevano anche una fortissima ironia. Per cui parlavano e si dicevano di tutto e alla fine il bene appianava tutte le differenze. Anche questo è un insegnamento. È assolutamente come dice lui ha confermato Maria De Filippi si volevano bene. Non la pensavano sempre nello stesso modo. Si è visto in ogni scelta che c'è stata. È vero questo rapporto di grande affetto e anche di divertimento. Al compleanno di Maurizio non c'era una volta che non telefonava suo papà e lui aspettava quella telefonata ogni 28 agosto. Mi ricordo che quando Silvio si occupava di televisione. Tutti i venerdì faceva una riunione ad Arcore dove Maurizio ed Enrico, Mentana, NDR. Andavano insieme. Parlavano. Si raccontavano e decidevano cose. Pier Silvio era piccolo e Maurizio lo vedeva che giocava. L'affetto di Maurizio per il papà poi è diventato un grande affetto per Pier Silvio. Io ho in casa foto di Maurizio con Silvio ma anche di Maurizio con Pier Silvio. Grazie Maria. Hai detto una cosa bellissima che mi tocca il cuore. Ha detto Pier Silvio Berlusconi visibilmente commosso. La generosità e l'educazione di Silvio appartengono anche a Pier Silvio. Fu proprio Berlusconi che decise che il, Maurizio Costanzo Show, doveva diventare quotidiano. Fu un'intuizione importante. Ha ricordato Fabio Fazio. Maurizio mi raccontò che quando Silvio Berlusconi lo prese in azienda. Lui rimase anche colpito dal fatto che Silvio lo accompagnò sino al vagone letto e intervenuta Maria De Filippi disse. Uno degli uomini più gentili che io abbia mai incontrato. Per lui era fondamentale la gentilezza. In quel senso, la generosità e l'educazione. Che devo dire appartengono anche a Pier Silvio. Te lo dico pubblicamente. Maria ha inventato un nuovo modo di fare televisione e noi siamo orgogliosi di averla su Canale 5. Sempre, ha voluto sottolineare l'editore. Poi è partita una proposta a bruciapelo. E poi Fabio, quando tu verrai finalmente da noi, anch'io sento di avere l'intuizione che potrai diventare quotidiano. Noi siamo qua, sono certa che ti accompagna sino al vagone letto. Ha ironizzato Maria De Filippi. Io ho appena iniziato sul 9. Facciamo così. Ne parliamo tra qualche anno, ha replicato Fabio Fazio tra il divertito e il lusingato. Grazie a tutti.